Come posso definirla? Artista, pittore, architetto, scienziato, ingegnere, inventore. Un film che ha un punto di vista molto originale o rappresenta in modo molto originale Leonardo con una intervista al maestro e che al di là della qualità produttiva ci ha molto colpito perché è un film che grazie a Massimiliano Finazzer, l'autore, il produttore di questo film, oltre di attore, ha girato veramente il mondo. Questo film è andato in tantissimi paesi, è andato a decine di festival internazionali e quindi ha portato l'arte e la cultura italiana nel mondo ad un pubblico molto attento, molto significativo per questo tipo di prodotto. E quindi ho fatto e faccio, rinnovo i miei complimenti a Massimiliano Finazzer per aver prodotto un film di questo livello che addirittura ha esordito nella sua visione a livello di cortometraggio, perché c'è la visione di cortometraggio e la versione lungometraggio addirittura alla National Gallery a Londra, nel scorso autunno, con una platea veramente di livello internazionale e di qualità assoluta. Siamo molto soddisfatti di aver dato il nostro contributo, il nostro marchio, ad un prodotto di questa qualità. Che cos'è la verità, maestro? E' un genio senza pace. Chi c'è dietro a questo volto? Non è scoprire se libertà ti è cara. E il volto mio è chiarcere d'amore.